Musica Bene ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca all'alba di questa mattina Uomini della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Padova, supportati da pattuglie di rinforzo del reparto prevenzione crimine del Veneto hanno effettuato controlli all'interno del complesso immobiliare Torre Belvedere in piazzale e stazione a Padova luogo noto per la presenza di affittacamere abusivi o comunque per dare ospitalità anche temporanea a persone per lo più straniere, irregolari, dedicate ad attività illecita Oltre 70 uomini impiegati scesi in campo a partire dalle ore 6 nel corso dell'attività sono state identificate complessivamente 117 persone di cui 37 pakistani e 80 cinesi di questi 17 sono risultati privi di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale e pertanto sono stati condotti in Questura dove sono stati sottoposti a fotosegnalamento e posti a disposizione dell'ufficio immigrazione per le procedure di espulsione sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della squadra mobile e della squadra amministrativa della Questura nonché della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per accertare le irregolarità amministrative e tributarie nei confronti di diversi conduttori Il sindaco Sergio Giordani questa mattina ha presentato il rendering di come sarà il nuovo Corso Milano a Padova Il progetto vede l'addio ai parcheggi e benvenuti alle piste ciclabili e di nuovi alberi è un progetto secondo l'attuale amministrazione che vuole ridare appetibilità commerciale ed un migliore aspetto estetico ad una delle vie maggiormente frequentate e che appunto si dirige verso il centro città Spariranno 27 parcheggi ma su entrambi i lati della careggiata sorgeranno le piste ciclabili con diversi alberi Per chi avesse necessità di parcheggio invece fino a giugno c'è la possibilità di lasciare la propria auto presso la ex Prandina aperta già dalle 8 del mattino oppure di trovare posto lungo via San Paolo e via Verdi Vediamo Per me è un inizio di un sogno, una cosa molto positiva che stiamo costruendo un po' di tempo che abbiamo anche, in virgolette, promesso come abbiamo fatto la Prandina La Prandina si aggancia un piano totale della città per cui Corso Milano in cui faremo due, proprio a giorni, due ciclabili Perdiamo pochi posti, 27 posti di parcheggio lungo Corso Milano Nel contempo però devo dire apriamo alle 8, dal lunedì mattina apriamo alle 8 la Prandina quindi eviteremo disagi Questo, ripeto, fa parte di un percorso totale Mi spiego meglio Stiamo considerando via Dante che è una strada che ha grossi problemi anche sotto l'aspetto statico degli edifici Stiamo ragionando su piazza Remitani Stiamo ragionando su tutta l'area Piazza Aglio Boschetti, l'area vicino al Chiede della Pace, IFIP PP1, su tutte le aree di importanza si dà La viabilità va vista gradualmente Non è un piano che facciamo anche grazie, grazie Europa, grazie Sonsapelli Stiamo analizzando tutta la Padova totale Per migliorarla, io so che qualche problema ci sarà, qualche contestazione c'è sempre Però l'obiettivo nostro non è ricercare il consenso, è far migliorare la città Siamo convinti che un po' alla volta la città migliorerà Corso Milano diventerà molto più bello Vuol dire che i commercianti saranno valorizzati perché tra prese abbiamo condiviso tutto con i commercianti Tutta la zona commerciale di Corso Milano verrà migliorata Perché sarà il passato della Prandina verso il centro Per cui è un sogno, un po' alla volta è stato Per quanto riguarda è stato fatto con l'aiuto del vice sindaco Di Michalizzi, della Chiara, Galani Per cui è una cosa bella Se funziona è merito loro, se non sbaglio è colpa mia Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato con il parapendio Durante un lancio al Monte Grappa L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione Monte Grappa Il parapendista è stato localizzato a Borso del Grappa Nella frazione di Legnarola Seguendo le coordinate indicate da un altro delta planista L'equipaggio ha individuato il punto di un ripido pendio tra gli alberi E ha sbarcato nelle vicinanze con un verricello Il tecnico del soccorso alpino ed un medico Una volta raggiunto il pilota Un cittadino polacco di 77 anni Che da una prima ricostruzione era caduto per una cinquantina di metri E' stato possibile soltanto constatarne il decesso Dovuto purtroppo a diversi traumi Ancora la cronaca Tenta di uccidere il figlioletto Ma fortunatamente fa scattare l'allarme Sono stati alcuni parenti della donna E' stata ritrovata infatti nel capoluogo euganeo E aveva già messo in parte atto il suo tremendo piano La donna pregiudicata che vive nel Piovese Ha manifestato chiaramente la volontà di uccidere il proprio bimbo di 5 anni E anche se stessa Ovviamente i carabinieri di Legnaro e del Piovese Si sono messi subito in moto Alla ricerca dell'auto Che in cui appunto la donna era in viaggio A Padova, tra via Gozze e via Trieste Norma e polizia locale Hanno fermato l'utilitaria E al volante c'era la donna In stato di totale confusione Alterata probabilmente per aver assunto delle sostanze Il corpicino del bimbo avvolto in una coperta È invece immobile I paramedici hanno praticato poi le manovre salva vita E il piccolo poi è stato portato all'ospedale Ora è fuori pericolo La madre invece è stata immediatamente sottoposta a fermo E affidata ad un'apposita struttura sanitaria Come disposto dall'autorità giudiziaria E informata dei fatti A due giorni dall'arresto è arrivata la convalida E una volta dimessa la donna sarà trasferita in carcere Le venne contestata l'accusa di tentato omicidio Aggravato dal legame parentale Esteticamente assomigliava ad una pancia da donna in gravidanza Al settimo mese In realtà si trattava di un utero Incredibilmente ingrossato da fibromi giganti All'ospedale madre Teresa di Calcutta di Monselice Questo enorme utero malato Grande quasi quanto un bambino da 1,3 kg È stato asportato in laparoscopia Protagonista una donna di 53 anni di Padova Che ha beneficiato della tecnica Che non ha chiesto cicatrici sulla pancia Ma soltanto dei piccolissimi buchi E ha comportato un ridottissimo dolore post-operatorio Un recupero più rapido ed un ricovero più breve Al tavolo operatorio L'equip di ginecologia e istrattrice Diretta dal dottor Carlo Dorizzi Che ha proceduto con precisione millimetrica Grande abilità chirurgica E poi tanta pazienza Il nome scelto è Berta Casetta del Popolo Si trova all'interno dello stabile di proprietà di Ater In via Cardinal Callegari Un tempo residenza per anziani E chiuso da diversi anni Gli occupanti afferenti alla sinistra padovana Hanno eseguito una serie di migliorie E ha organizzato anche un ampio calendario di eventi Musica, cinema, incontri Compongono il calendario degli eventi in programma Ma il progetto è ampio Uno sportello contro lo sfruttamento Uno sportello salute Uno di ascolto del quartiere Un doposcuola in aiuto Compiti Pranzi popolari Tutto per creare momenti di socialità E di condivisione L'edificio, dicevamo, è di proprietà Dell'Ater Secondo quanto riportano gli attivisti Sarebbero stati fatti diversi tentativi Di mediare con l'ente Per ottenere la fruibilità Dello spazio abbandonato Tentativi che non avrebbero mai trovato risposta Eccetto la comunicazione Di voler vendere l'immobile Si preannuncia ora una nuova battaglia Tra gli occupanti abusivi E ovviamente l'Ater Un albero alto Circa 20 metri È caduto questa mattina Intorno alle 9 Travolgendo un muretto Di delimitazione Finendo contro un condominio A Mestre Nessuna persona È rimasta ferita Ma la pianta è finita Sopra un muro Che delimita Delle palazzine Abbattendo cavi elettrici E danneggiando Una tubatura del gas Al baglio dei tecnici Le cause che hanno causato La caduta Del grande arbusto Ieri sindacati Qualche centinaio di persone E diverse autorità A sostenere i lavoratori Nella giornata Del primo maggio Tema centrale Della giornata La sicurezza Intesa sia come condizioni necessarie All'interno dei luoghi di lavoro Che per quanto riguarda La situazione di precarietà Che coinvolge La maggior parte Delle persone Come ogni anno Alcune sindacaliste Hanno portato rosa In varie strutture commerciali Che oggi Sono poi rimaste aperte E tra queste Appunto La consegna della rosa Ma a un certo punto Andando proprio Presso un centro commerciale A Ponte Vigo d'Arzre È stato vietato Il permesso Di accettare la rosa Con il pretesto Di una regola interna Che vieta Di accettare regali Gli ulivi del Veneto Soffrono E la regione Corre ai ripari In arrivo 50 mila euro Per i ricercatori Del Dipartimento Territorio Sistemi Agroforestali Della Università di Padova Impegnati Nel comprendere Le cause Delle sofferenze Degli alberi Influorescenze Che si seccano E frutti che avvizziscono E cadono Prima della maturazione È la condizione Che affligge Gli ulivi Dell'area Pedemontana 5 mila ettari Di terreno Tra i coliguani Iberici Fino all'area Del Monte Grappa La causa È sconosciuta Anche se si sospetta Che la grande Sicità Del 2017 Possa aver causato Degli squilibri Appunto Fisiologici Con la conferenza L'esercito Una risorsa Per il paese Si sono aperti Gli appuntamenti Organizzati Dal comando Forze operative Nord In occasione Del 158esimo Anniversario Della costituzione Dell'esercito Italiano Alla conferenza Che si è tenuta Presso il centro Culturale Altinate San Gaetano A Padova Questa mattina Sono intervenuti Il comandante Delle forze operative Nord Il generale Di corpo d'armata Medeo Sperotto E il direttore Del gazzettino Papetti Che hanno illustrato L'organizzazione I compiti Dell'esercito Italiano Soffermandosi Sulla quarta missione Con corsi Alle autorità Civili Di pubblica Sicurezza E salvaguardia Delle libere Istituzioni Oggi Ricordiamo Sono ben 3.300 I militari Impiegati Nelle operazioni All'estero 7.300 Sul territorio Nazionale Nell'operazione Strade Sicure A questi Vanno aggiunti Altri 8.200 Pronti Invece Per intervenire In caso Di pubbliche Calamità Bene È tutto Per questa Edizione Del giornale Come sempre Grazie per averci Seguito L'appuntamento È per La prossima Edizione Grazie per avermi Grazie per avermi